Musica 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 Non capiscono niente? Fatti in cucina non servono niente questi Eh? Vogliamo provare e faccio vedere subito Con qualcosa di semplice Vediamo che non capisco Tu! Brava! Vai in cucina Vai a prendermi il prosciutto cotto Vai! Tranquillo Zlasto Tranquillo! Faro sempre tranquillo Tranquillo Zlasto! Tranquillo vediamo! Ma già deve lavorare! Io non posso sempre Non posso! Non posso! Non posso! Adesso vediamo! Vediamo! Tranquillo Zlasto Secondo te questo è il prosciutto cotto Questa è il salato! Non capisce niente! Proviamo tutto te! Non ci capisce! Tu! Vai tu! Ah questo è il più furbo di tutti vai vai in tua cucina vai a prendere ricotta tranquillo muoviti tranquillo qui gente che aspetta lui tranquillo e porta ricotta a qualcuno adesso vediamo se porta ricotta bravissimo allora senti un po' bella rabbino secondo te ricotta che cos'è ricotta e formaggio ricette formaggio molle queste sono patate pure e io non faccio niente non si capisce niente non si può fare niente ma con questi non so più cosa fare non so più cosa fare dite qualcosa voi tre forza dite qualcosa sempre tranquillo sempre tranquillo tranquillo gli equivoci ogni tanto accadono bisogna un attimo ma no no qui non si può non si non posso lavorare con questa gente non posso questa gente qua devono andare al loro paese tu devi andare al tuo paese a lavorare e andrà e andrà il tuo paese e andrà a fai niente guarda il tuo paese non dè tu noti Ooooh EYANDALLO E si no ?oooo no no ma no ma no i hanno accanto la lingua no conевità EYANDALLO東西 è una parola nuova internazionale che vuol dire dai siamo fratelli immaginiamo avere quelle e diconouje strane scaresacingly doviamo dire EYANDALLO Ehiatta! 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 Sorriso a volte sai, scoppa più di un intervario E' speranza che un bel dì Un'alba nuova vedrà e sorgerà Un'alba di mille colori Spermente e magica perché Con tanta gente intorno al fuoco Che ancora mi piacciono gli selenni Da... Ehiatta! 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 Intorno al fuoco Ehiatta! 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 verso quell'alba e yanda yanda e yanda yanda e yanda yanda sì, questo sogno andrà per le montagne e tra le scoglie E un messaggio marcherà, tutte le frontiere, un anno di emozioni, una migliaia di pensieri, che dalla gente intorno al fuoco, e se c'era cantando così. E yatta yatta e intorno al fuoco, e yatta yatta e verso quest'alba. E yatta yatta e... E yatta yatta e... E yatta yatta e... Certo, basta poco Giacco, è vero? E yatta, è una parola semplice. Da oggi saranno molto più dei tuoi vici aiutanti, e sono sicuro. Allora ragazzi, anche questa volta vi è andata bene eh? Ringraziate Angelino. Va bene, ho capito il nuovo significato di parole, e yatta, io non conoscevo. Noi in Croazia non conosciamo yatta, con questo significato. Visto che significa amore, fratellanza, serenità. E allora ragazzi, andiamo ancora tutti in cucina, prepariamo qualcosa di buono. Va bene, e yatta ragazzi! E yatta! E yatta! E yatta! E yatta!